Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! All'Everest l'acqua bolle a 80 gradi, a me bolle subito, così Eh scusate, scusate Porca puttana Un messaggio direttore Un messaggio! Questa è l'arte Eh a quanti beat lo mettiamo? A quanti beat lo mettiamo signori? A quanti beat lo mettiamo? A quanti beat lo mettiamo? E tutta giornata decida stronzata Mamma mia non c'è faccia più a giù Stasera vanno tutto cazzo Si vogliamo mangi una bella pizza E terzo E terzo Storia di grande Ehi 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 Questo qui raga è il bancale che avevo messo giù per fare il salto Ehi 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 Pensate che stavo facendo qualcosa di strano? Allora Ho il cazzo duro Ho il cazzo duro Ho il cazzo duro Ho il cazzo duro Ho il duro cazzo Ho il cazzo in culo No Non è quello Non è quello Cazzo duro Te lo butto al culo Ah non era quello Cazzo la cassa in cucina Non ho spento Fermati Oddio fermati Si cazzo Oddio Oddio paura Aiuto 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 Che cazzo Aiuto Aiuto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono uscito dall'incontrario, allora per tirarmi mi hanno tirato i capelli. Ok? Dio cane! È difficile, perché non lo so così difficile? Porco Dio, porco Dio, porco Dio. E gira qui sta la sua, non so la sua presidenza. E va che cosa fai? E va? E va? E va? Mamma mia, quanto è brutto! Se l'hai buttato proprio! Se l'hai buttato proprio! Se l'hai buttato no! E infatti, haters, per cortesia. Grazie. Mi hai crashato il Gennaro? No. Eh, non so cap'è. Prenda! Sto... Sto... Sto correndo infaccia al muro! Aspett... Farimproverto! sta riposando gli occhi si è dormuto si è dormuto come cazzo è giunato ma che faccio pulito il giro è tra le mie preferite hai la categoria ho chiesto a tic di assisterti nell'uso della stanza così che tu possa provare il resto di materia per favore va a parlare con lui ha uno studio che è fatto bene si è spettacolare sono un po' ottimizzata a livello di grafica ma quanti messaggi mi stanno arrivando non capisco io non capisco no è tipo com'è delusio nooo è scorreggio che se lo faccio gente che se ne è proprio uopo che se ne è proprio l'uovo mamma mia un pacchettino di craggers e sono i carbiotraci sono i carbiotraci come si dice i carbiotraci come cazzo si dice è che